Da libro del Siracido, ascoltatevi figli sani e crescete come una pianta di rose su un torre. Come incenso, spandete un nuovo profumo, fate fiorire fiori come il giglio, spargete profumo e intonate un canto di lode. Benedite il Signore per tutte le opere sue, magnificate il suo amore, proclamate le sue lode, lode con i vostri canti e le vostre scelte. Così direte nella vostra roba quanto sono magnifiche tutte le opere del Signore, ogni sua disposizione avrà luogo a suo tempo. Non c'è da dire che è questo, perché è quello. Tutte le cose saranno indagate a suo tempo. Alla sua parola l'acqua si ferma come un muro, a un suo detto si aprono i serbatoi dell'acqua. A un suo comando si realizza quanto egli vuole, nessuno può ostacolare il suo aiuto. Ogni azione umana è davanti a lui, non è possibile nascondersi ai suoi occhi. Il suo sguardo passa da un'eternità all'altra. Nulla è straordinario davanti a lui. Non c'è da dire che è questo, perché quello, poiché tutte le cose sono state create per un fine. La sua benedizione si risponde come un fiume e irriga come un'untazione la terra. Così le genti sperimenteranno la sua ira, come trasformuò le acque in deserto salato. Le sue vie sono diritte per i santi, ma per i miei piedi di un cianco. Si è ruotato, adorato e ringraziato ogni momento. Innanzi alla presenza di Gesù, se li percorriamo un pochino le splendide parole di questo passo, del Vincolo del Siracide, che culmina nella sua affermazione centrale. ha un suo comando, si realizza quanto egli vuole. L'espressione che dà anche un po' il titolo a questa piccola meditazione. Dio fa tutto ciò che vuole. È un po' il messaggio fondamentale di questo brano, che però comincia con un'esaltazione. Un'esaltazione assoluto all'ascolto, quando nella Sagra Scrittura troviamo l'invito ascoltatemi, ascoltate, ascolta. Vuol dire che si sta dicendo qualcosa di particolarmente importante per noi. E la prima cosa sono queste due parole. Figli santi. Noi siamo abituati a dire, abbiamo imparato a catenismo, perché siamo figli di Dio. Ma i figli, come sappiamo, condividono tutti i beni, tutta la gioia, tutta la vita del padre. Sentirsi figli di Dio profondamente, vivere da figli di Dio, godere anche di tutti quanti i beni che Dio è, ha e dà ai suoi figli, come se fossero i loro, tra, come dire, saperlo e viverlo, ci passa. Ecco, nel nostro silenzio di grazie a Gesù, dovremmo proprio anzitutto interiorizzare questa espressione. Figli, noi ogni volta che preghiamo con le parole che Gesù ci ha insegnato, diciamo, padre nostro. Quanto viviamo il nostro essere figli, perché noi figli lo siamo, da un punto di vista oggettivo, perché siamo battezzati, da un punto di vista ontologico, sostanziale. Ma quanti figli vivono da figli, non da... qualcuno da serbo, come il fratello maggiore della parabola del figlio del prodigo, qualcuno da estraneo e addirittura qualcuno da nemico del Signore. Ecco, ascoltatemi, figli santi. Nella saga scrittura si trova questa espressione. Siate santi, dice il Signore, come io sono santo, in una versione, e perché io sono santo. È la prima cosa, sempre che chiediamo al Signore, nel Padre nostro. Sia santificato il tuo nome, cioè che sia santo io, della tua stessa santità, rivestito della tua stessa santità. Figli santi. Crescete come una pianta di rose su un torrente. La rosa, come sappiamo, è una pianta molto bella, molto impegnativa. La rosa è il fiore della Madonna, che è invocata tra i suoi tanti fiori, appunto, come rosa mistica. La rosa simboleggia l'amore ardente, espande un profumo meraviglioso, ed è circondata dalle spine, perché l'amore è vero, e lo sanno bene gli sposi fedeli, si prova, si dimostra e cresce nel sacrificio, nella capacità di spendersi, di spezzarsi, di donarsi per l'altro. Come incenso, spandete un buon profumo. Noi vediamo che ogni volta che adoriamo il Signore è proprio prescritto dalla liturgia della Chiesa che si usi l'incenso. L'incenso è il buon profumo, è il profumo della santità di Dio, simboleggia le virtù, simboleggia la preghiera, simboleggia la presenza stessa di Dio. Questo profumo, che però è appunto un fumo, un profumo, ecco, è anche un fumo, un fumo lo possiamo, lo vediamo, ma appena l'abbiamo visto già svanisce, no? Quella, quel fenomeno molto, molto particolare, il fumo non lo possiamo toccare, non lo possiamo prendere, non lo possiamo controllare, lo vediamo, ma appena visto sfugge non lo scriviamo anche, proprio come il mistero che Dio è, che in qualche modo lo percepiamo, lo intuiamo, lo vediamo per fede, ma non possiamo, almeno in questo mondo, afferrarlo, prenderlo, o comprenderlo. Come incenso, spandete come un profumo. Ecco un altro grande fiore, fate fiore le fiori come il Giglio, il Giglio è un altro fiore, simbolo sia della Madonna, sia da tutti, che è simbolo della purezza, ma è anche simbolo di San Giuseppe, il figlio di Giglio è nella Sacra Scrittura, e nella letteratura spirituale, proprio il simbolo della purezza, Gesù che ha detto beati i puri di cuore, perché vedranno Dio, ecco, non soltanto i puri di corpo, quella è già una grande cosa, ma non soltanto i puri di bocca, i puri di occhi, queste sono cose ancora più grandi, chi non sporca la bocca con l'impurità, chi non vuole i suoi occhi dove non dovrebbe, ma è il puro di cuore, è il top, è quello che non si lascia nemmeno sedurre, o dai desideri cattivi, dai pensieri cattivi, ma ha il cuore fisso nel bene, fisso in Dio, e questo cuore, oltre ad essere profumato in se stesso, sparge quel profumo, come? Nel canto di lode, benedite il Signore per tutte le opere sue. La Chiesa, nella sua sapienza, la mattina, nella liturgia delle ore, ci fa recitare il Benedictus, benedetto il Signore Dio d'Israele, e nella preghiera della sera, ci fa recitare lo splendido canto di benedizione, di lode, di Maria Santissima, che è magnifica, l'anima mia magnifica, il Signore, non solo lo benedice, lo fa grande, magnificate il suo nome, prosegue il testo, più, prima e meglio di tutti, lo ha fatto la malora, e noi con lei, e perché? Proclamate le sue rodi con i vostri canti, e dite nella vostra lode, quanto sono magnifiche, attenzione, tutte le opere del Signore. In alcuna è più facile vedere la sua magnificenza, se impariamo ad osservare con attenzione il creato, ecco, speriamo che molti di noi si siano ricreati durante questo tempo estivo, specialmente coloro i quali il Signore ha concesso, qualche tempo santo a contatto con le varie meraviglie del creato, ma non soltanto in esse, quindi queste stupende e meravigliose opere, che risplende la bellezza del Signore, ma in tutte, anche nelle cose dove meno ci tenderemo di vederlo, in tutto quello che ci circonda, ma tante cose non sono, non sembrano positive, sembrano cattive, sembrano malvagie, il male e la malvagità sono sempre fenomeni molto transitori, perché ogni sua disposizione ha un luogo al suo tempo, noi sappiamo che Dio il male lo permette, sempre per volgerlo a un bene maggiore, il male generato dalla nostra, purtroppo, cattiva volontà e libertà, e Dio lo permette, per rispetto di essa, ma anche per il potere che Lui ha, di trarne sempre un bene, quasi sempre per altro maggiore, del male prodotto. Ecco, quindi, quando noi pensiamo davvero che Dio fa tutto ciò che vuole, che a un suo comando si realizza quello che Gli vuole, diventano inutili le domande, e il testo ci è solito, a non farcele, che è questo, perché quello, sono domande che avranno risposta nell'aldilà, a noi qui ci basta sapere che, basta che Dio parla, basta che dice mezza cosa, l'acqua si ferma, nessuno può ostacolarla, e ogni azione umana è davanti a Lui, i malvagi che sembrano fare man bassa, fare il bello e il cattivo tempo, infischiarsene di Dio e delle sue leggi, non è che per questo, per il fatto che loro non ci credono, sfuggono alla vista o al controllo di Dio, non è possibile, c'è un bellissimo Salmo che dice, se salgo in cielo l'8.6, se scendono gli inferi, eccoli, se prendo le aree dell'aurora per volare al di là dell'immensità del male, anche là mi raggiunge la tua mano e mi segue la tua destra, se dico mi copro l'oscurità, ma nemmeno le tenebre per te sono oscure, perché la notte è chiara come il giorno. Dio conosce tutto, quello che facciamo, quello che vogliamo, quello che pensiamo, quello che desideriamo, conosce anche quello che noi non conosciamo di noi stessi, cosa è sotto le nostre azioni. Quando uno è un figlio, vive da figlio, questa verità non gli crea nessun turbamento, anzi è contento che il Signore lo conosce bene. Certo, quando uno ha la coscienza un po' sporca, che ha qualche scheletro nell'armadio, c'ha qualcosa da nascondere davanti al Signore, non è molto gradevole sentirsi ricordare questa verità, ma possa almeno giovare a chi si trovasse in questa situazione a riflettere bene. Noi possiamo nasconderci davanti agli occhi di tutti, a volte anche nasconderci sotto i nostri stessi occhi, ma non a quelli di Dio. nulla è nascosto e nulla è straordinario davanti a lui. E infine l'ultima esortazione che ci lascia questo splendido brano è che tutte le cose sono state create per un fine, tutte. La nostra stessa vita ha un fine meraviglioso. Tutto quello che vediamo, tutto ciò che è, dicevano i filosofi, a partire anche dalla più insignificante pietra, apparentemente senza senso, o tanto piccola nell'ordine del cosmo, ma anche gli atomi di quella pietra certamente hanno un fine, e un fine ben specifico, preordinato, voluto, non solo preordinato, ma voluto dall'Altissimo. Il Signore espande benedizione su benedizione, conclude il testo. E però, e però, gli empi e gli ostinati che si chiudono alla benevolenza di Dio, il testo ciamuniste che sperimenteranno la sua ira, e che la dirittura delle sue vie, che sono fonte di godimento per i santi e per i buoni, diventano fonti di inciampo per gli empi. Ecco, noi stiamo davanti al Signore, certamente carico di tante miserie, speriamo che il nostro essere qui almeno ci metta nella condizione, ecco, di poter starci da figli, quindi da figli che amano, che sono amati dal Padre, e che non devono assolutamente vivere nella paura, noi sappiamo bene, come dice San Paolo, la legge è fatta per il peccatore, paura di Dio ce la può e ce la deve avere, ce la dovrebbe avere, appunto soltanto di si fosse ostinatamente, deliberatamente, proditoriamente allontanato da lui e della sua legge, ma basta semplicemente avere il desiderio di riabbracciarlo, che la paura deve dissolversi, veramente come fumo nel vento. Noi adesso iniziamo il nostro personale dialogo con il Signore, ricordando bene da dove siamo partiti, ammaestrati da questo testo. Figli santi, quindi non figliastri, non estranei, e santi non enti, non peccatori, non degenti. Ci mettiamo in questo modo davanti al Signore, e che ci aiuti a vivere un intenso momento di preghiera personale con noi. Sia lodato, dorato e ringraziato ogni momento. il santo età, il santo età, l'intervento è stato.